I studenti genonesi siamo chiesi in Piazza, qui a Napoli, assieme a noi, contro la scocca Italia, a un mese da un'unione di Genova che ha provocato l'ennesima morte, 7 da 2011, 7 morti a causa della devastazione ambientale, della continua scientificazione. E ora ci ritroviamo un decreto che dà 130 milioni per il distancio idrogeologico e 4 miliardi per le grandi opere. Noi siamo scesi in Piazza per chiedere che quei soldi che vengono destinati a opere che vogliono ancora più distruggere l'ambiente, che vogliono fare altri morti, vengano destinati a quelle piccole opere che servono nei nostri territori, alle opere di bonifica, alle opere di ripristino del territorio, di un territorio martoriato da anni di cementificazione selvaggia, martoriato da chi vuole fare gli interessi propri e non gli interessi di chi in questo territorio lo abita. Siamo scesi in Piazza per chiedere che venga effettivamente rispettata la democrazia, che ci sia una partecipazione degli abitanti del territorio sulle scelte che coinvolgono lo stesso territorio, perché tutta Italia è coinvolta dalle devastazioni ambientali, dalla Dami in Barsusa, verso Valle con Genova, fino qui a Napoli, con il commissariamento di Magnoli, la cementificazione selvaggia, le tribellazioni nel colpo di Napoli. Per questo noi siamo scesi qui in Piazza per dire che la lotta per l'ambiente è un'unica lotta, la lotta per un nuovo modello di sviluppo, la lotta per una democrazia migliore, una democrazia che sappia essere conflittuale, che sappia dire no al governo Renzi, quando propone progetti di legge che devastano l'ambiente, che moltificano ancora di più il diritto allo studio, perché nello sblocca Italia c'è un ennesimo taglio al diritto allo studio, con il 18% di dispersione scolastica, con punte del 26% delle regioni del sud Italia, e ci permettiamo ancora di tagliare il diritto allo studio, quando ci sono persone che a scuola non ci possono andare, perché la scuola costa troppo. Per questo noi saremo anche in Piazza il 14 novembre, per incrociare le braccia, per dire no a un decreto come il Jobat, che va a precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro, a un piano scuola che si pone in continuità con il Jobat, e non fa che inserire la precarietà fino dai primi anni di liceo, con l'apprendistato sperimentale, con la dequalificazione degli istituti tecnici professionali, con l'asservimento degli istituti tecnici professionali, alle volontà delle aziende, contro una legge di stabilità che fa vedere quelle che sono le reali intenzioni del governo, con degli ulteriori tagli al diritto allo studio, con il taglio di 2020 Pidelli, con il taglio della legge 440 che garantisce l'autonomia scolastica. Per questo il 14 novembre noi studenti saremo in più di 60 piazze italiane e incrocieremo le braccia e faremo sentire la nostra voce, bloccheremo le città, le stazioni, i porti, e non ci muoveremo da lì perché questi decreti non verranno ritirati.